Operai davanti ai cancelli dello stabilimento Novo Legno di Montefredane per bloccare le operazioni legate allo smontaggio e all'asportazione del biotrituratore cippatore che è di fatto il cuore della produzione dello stabilimento di località Arcella, chiuso da oltre un anno. I 117 lavoratori sono in presidio permanente. Alla fine del mese di maggio scadrà la cassa integrazione e per loro ci sarà solo il licenziamento. Temiamo che comunque questi smontano tutto la Novo Legno e la portano su. La nostra indignazione è stata che abbiamo fatto una richiesta di incontro all'azienda proprio in merito a questo che sta succedendo dove l'azienda ci ha risposto con una comunicazione negativa che non era opportuno fare questo incontro perché loro si stavano tenendo a quello che avevamo firmato al mese che facevano questo smaltimento, ci vuotamento del magazzino però comunque al mese non è che abbiamo concordato che potevano smantellare tutto l'impianto. La nostra preoccupazione è proprio questa, che stanno smontando con arroganza tutti questi macchinari e portarli su. Il segnale è proprio chiaro, è rubarci il lavoro nello stesso momento che Fandone è chiuso con Montefrede. Quindi questa è la situazione, non è che c'è qualche riconversione, industrializzazione, non c'è niente.